Domanda, perché questo passerotto si bea dell'acqua e non ha paura dell'uomo? Perché l'anima gruppo a cui appartiene il passerotto sta sperimentando il regno umano proprio attraverso il suo sensore che è rappresentato da quel passerotto. Infatti il passerotto non ha ancora un'anima, la sua anima è l'anima gruppo a cui il passerotto appartiene.